Ciao! Cari bambini viola, vediamo se riusciamo a continuare con il nostro lavoro. Pronti? Iniziamo con l'appello. Davide, Tommaso, Salua, Vera, Vittoria, Mattia, Lucia, Luca, Adelaide, Leonardo, Giovanni, Aurora, Adam, Gabriele, Benedetta, Maria Sole, Gianluca, Agnese, Giulia, Virginia, Elia, Mario, Francesca, Isabella, Lorenzo. Ci siete tutti? Prima di tutto, le tre regole. Ve le ricordate? Sedersi con posti, schiena appoggiata allo schienale, gambette ben rilassate e i piedi a terra. Per concentrarsi ci vuole silenzio, ma in questo caso un po' di musica rilassante ci può aiutare. Oh, alzare la mano per chiedere e aspettare il turno. E ora filastrocca dell'impugnatura. Questa è la filastrocca dell'impugnatura che ci aiuta nella scrittura. Pollice e indice si danno i bacetti. Sotto c'è il medio che li tiene stretti. Mentre Mignolo e Anulare proprio nulla vogliono fare. Vi ricordate? Abbiamo fatto le vocali e le abbiamo messe dentro una casetta. A, E, I, O, U.